in compagnia di gabriele detti ciao gabriele allora dopo il brasile siamo subito in italia abbiamo comprato il dizionario giapponese intanto buongiorno no c'è tempo ancora per provare a parlare giapponese prima c'è da andare in canada poi c'è da andare a budapest poi sono altre tre stagioni prima quindi facciamo un pezzettino alla volta ovviamente adesso abbiamo subito il canada e poi tante altre tappe prima delle prossime olimpiade comunque stamattina 340 insomma si no il tempo va bene ho fatto fatto veramente tanta fatica scuola tutta la seconda parte perché manca ancora un po di allenamento ho voluto esagerare un po passaggio ma tutto sommato va bene così benissimo grazie a essere stato soccorsi a 4 in bocca al lupo e facci sognare grazie a voi crepi il lupo siamo qui ci proviamo